Martin Hill, anno 9, numero 1, raccontana di Dougie O'Donnell. No, no, basta, basta. Ma, mi spiace Dougie, mi dispiace davvero. Oh no, ditemi che non sta succedendo di nuovo. Si Dougie, di nuovo è la tua condanna. Ma, perché, perché? E stavolta potrebbe essere per sempre. Ti immagini essere invisibile per sempre. E' incredibile, Martin Hill, ma hai effettivamente ragione. Questa moneta antica ricca lo scudo degli O'Donnell. Lo so, ho controllato la Biblioteca Nazionale, Angus. Ma che c'entra con la scomparsa di Dougie? Per ora non mi è facile spiegarlo, ma ho bisogno del suo aiuto, Angus. Lei deve avere del materiale storico sul suo clan. Sì, ovvio, nel castello del Fjord di Morey. C'è un'intera sala piena di manoscritti. E' la sala vicina alla cantina di invecchiamento. Se me lo permette, Angus, porterò io a Martin Hill, porterò io a Martin Hill, amore. Mi interessa molto sapere che cosa succede a Dougie. Perché non ti diverti tanto, caro Dougie? Perché devo indovinare, Mira? Perché non mi dici semplicemente qual è la prossima missione? Dimmi, resterà invisibile per sempre? Tu che cosa credi? Tutto quello che posso dirti è che per questa missione non ti servirà essere invisibile. E questo è tutto. Presta Dougie. Aspetta. Maledizione. Puff. Maledizione. Che diavolo ci faccio da solo invisibile e sconcertato in mezzo a un cimitero, eh? Ma... 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 Oh zio, se sapessi come mi hai lasciata sola. Eri tutto quello che avevo al mondo. Eri con le cose che mi sono successe adesso. Che farò? Che sarà di me? Ciao, il signor Beppi e Bodhi era tuo zio. Eh? Oh sì. Mio zio. Lei lo conosceva. Oh sì. Grazie.